Oroscopo di branco di oggi, 10 febbraio 2023 per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci come ogni giorno, ecco l'appuntamento quotidiano con l'oroscopo. Come andrà la giornata di oggi? Cosa dicono le stelle? Oroscopo di branco per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, Sagittario, 23 novembre e 21 dicembre le prime promesse che devi mantenere e sono quelle che fai a te stesso. Se imbrogli, non sopravvivrai. Hai bisogno di più disciplina, soprattutto quando si tratta di salute. L'apatia e l'inattività ti fanno impazzire. Se non riesci a sopportarlo, cerca soluzioni ma non trascinare gli altri, almeno se non lo vogliono come te. Se senti una forte attrazione per il gioco d'azzardo, prova oggi a deviarla verso il tuo sviluppo intellettuale. Capricorno. 22 dicembre 20 gennaio i buoni risultati ottenuti nel tuo lavoro hanno innalzato la tua autostima e, questo ti spinge a nuove sfide con forza. In campo lavorativo, interessanti novità. Molte idee combattono nella tua mente. Cerca di stabilire un ordine. Assicurati che il tuo atteggiamento non sia troppo passivo oggi nella relazione con il tuo partner, perché la sua attenzione potrebbe essere facilmente dirottata su un'altra persona. Acquario, 21 gennaio 19 febbraio fai attenzione a chi ti avvisa che hai bisogno di un po' più di riposo e dedicati oggi, ad esempio, a guardare fuori dalla finestra, a leggere un libro o a riordinare le tue cose. Fai una passeggiata mattutina. Giornata indicata per dimenticare un po' il lavoro. Non perdere di vista il fatto che i tuoi sforzi sul posto di lavoro sono destinati ai tuoi figli, quindi dovresti goderteli. Hai bisogno di un po' di privacy per risolvere i problemi sentimentali che stai attraversando. Non preoccuparti, ti riprenderai presto, pesci. 20 febbraio-20 marzo continui a rimandare una conversazione con i tuoi genitori che prima o poi dovrai affrontare anche se non ti piace. Potresti farlo oggi, non sarà così traumatico come pensi. Oggi ti renderai conto di come i tuoi figli o addirittura i tuoi nipoti stiano cambiando a una velocità vertiginosa. Sii felice per loro invece di preoccuparti della tua età. Una passeggiata con la tua famiglia è conveniente per te. Bevi abbastanza acqua perché sarà di grande beneficio per il tuo corpo. Cosa dicono le stelle? Lo scopriamo con l'oroscopo di branco di oggi. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di branco di venerdì 10 febbraio 2023 per Toro, Ariete, Gemelli, Cancro. Oroscopo di branco per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. 21 marzo 20 aprile oggi dovete tenere gli occhi aperti e stare attenti, senza abbassare la guardia. Soprattutto in amore. Ultimamente avete discusso un po' troppo con il partner e questo non fa bene né alla vostra salute e a quella della relazione. Bisogna capire dove sono i problemi, con la maggior calma possibile, e affrontarli con un atteggiamento costruttivo. In ogni caso l'oroscopo del giorno vi chiede di resistere fino a marzo. Da lì in poi recupererete alla grande. Situazione in miglioramento, invece, per quanto riguardo il lavoro, in arrivo novità e risultati. Continuate così e presto raccoglierete buoni frutti. Toro 21 aprile 20 maggio l'amore vi fa finalmente sorridere, emozioni, batticuore, incontri positivi e chi più ne ha più ne metta. La luna favorevole a chi non vuole chiudersi in casa farà la differenza in questo senso. Sfruttate il fascino di questo astro e abbandonate le paure. In questo periodo tutto ciò che ha a che fare con i sentimenti è da considerare prioritario. Qualche tensione invece sul lavoro, possibili discussioni con i colleghi, magari anche per motivi futili o per divergenze di vedute, ma nulla che non possa essere risolto parlando chiaro. Gemelli 21 maggio 21 giugno l'oroscopo del giorno dei gemelli vi chiede di avere ancora un po' di pazienza sul lavoro. Ci sono trattative aperte che andrebbero chiuse ma non si riesce a trovare il momento giusto, o magari manca l'accordo definitivo o ci sono degli ostacoli che rinviano il sì liberatorio. Lasciate trascorrere il resto della settimana senza forzare la mano, andrà meglio nel corso della prossima. Anche in amore le cose stanno per migliorare ma non prima di qualche giorno. Non cedete all'impulsività e attendete pazientemente almeno il weekend. Cancro 22 giugno 22 luglio dopo un periodo pesante, in cui vi è successo di tutto, sta pian piano tornando la tranquillità. Ora avrete modo di respirare e guardarvi attorno senza ansie, o quantomeno non incontrerete ostacoli e pericoli dovunque andiate. È tempo di riposare e godervi un po' di serenità in amore, ricaricare le batterie e prepararvi al futuro. Sta per arrivare una nuova fase molto stancante. Oroscopo di Branco di oggi, 10 febbraio 2023 per Perleone, Vergine, Bilancia, Scorpione. Oroscopo di Branco per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Leone. 23 luglio 23 agosto sei vicino alla realizzazione dei tuoi sogni. Devi continuare a lavorare per raggiungere l'obiettivo. Ti conviene staccare un po' dalle tensioni quotidiane. Un consiglio. Prendete un libro e iniziate a leggere oppure andate in soffitta e riscoprite ricordi di tempi passati. Oggi si prevedono opportunità nel campo dell'amore. Se non hai un partner ma lo stai cercando, oggi troverai delle opportunità. Se ce l'hai già, la relazione potrebbe essere messa alla prova, Vergine, 24 agosto 22 settembre sei riuscito a liberare la tua mente dai pensieri negativi, ora cerchi chiarezza. È probabile che oggi incontrerai una persona con una personalità molto forte. Se non ti sei ancora impegnato con nessuno, questo contatto potrebbe influenzarti. Dovrai far fronte a dei cambiamenti importanti oggi, sul lavoro. Sarai costretto ad adattarti o a cambiare. Bilancia. 23 settembre e 22 ottobre L'esperienza ti mostra che i piani che fai sono una cosa e la realtà che si sta, costruendo sotto i tuoi piedi è un'altra. Sii più flessibile nei tuoi approcci. È probabile che qualcuno vicino a te soffra di una grave malattia e lo scoprirai oggi. Le notizie ti prenderanno senza forza, ma devi prendere tempo ed energie per dedicarle. Una storia d'amore si profila all'orizzonte. Più tempo dedichi alle relazioni sociali, più opportunità avrai che una persona interessante appaia nella tua vita. Scorpione. 23 ottobre e 22 novembre L'influenza di una persona anziana è molto importante per te. Tuttavia. Devi adattare i suggerimenti ai tuoi schemi, non prenderli alla lettera, altrimenti non funzioneranno per te. La fretta di solito non è una buona consigliera in campo sentimentale. Non fare pressione inutilmente sul tuo partner oggi, perché ottenere impegni con la costrizione è la strada sbagliata. la fretta di solito non è una buona sigla. Grazie a tutti.